Hai dormito fino a tardi? Strano. Ho preso una delle tue pillole. Non lo fai mai? Ma ecco qui, nero su bianco. Devi sentire come la racconta lui, roba da non credere. Già. Ho lasciato indietro delle cose... Ho lasciato indietro delle cose... Ho lasciato indietro della riberala. Ehm, spero di no. Scusi. Scusi.